Il bagliore della scoperta Misi un piccolo negozio a Piazza Pitti, nel centro storico della città. Lì le tubazioni erano molto consumate e c'era molto lavoro. Andavo su e giù con la bicicletta a riparare tubature. Un giorno mi chiamarono per un termosifone che non riscaldava. Iniziai a svitare la manopola bloccata, ma dopo qualche giro un getto di vapore a 110 gradi mi attraversò la tuta e mi trafisse il collo e il petto. Dietro di me la bambina della padrona di casa mi guardava. Se mi scansavo, il vapore l'avrebbe squagliata. Mi avventai sulla valvola e la chiusi a mani nude. I giri che avevo dato alla manopola avevano sgonfiato la bolla d'aria che teneva bassa l'acqua calda e il vapore era esploso su di me. Avevo ustioni di terzo grado e rimasi per due mesi in un letto di corsia. L'immobilità forzata mi fece bene. Con tutta la forza delle mie ferite volevo eliminare quel difetto nella circolazione dell'acqua calda e crebbi un'idea come una figlia. Quando fui dimesso dall'ospedale feci poche prove perché le avevo già fatte tutte nella mente e brevettai la mia idea come valvola istatica. Tempo fa un mio dipendente è caduto col motorino ed è rimasto a letto per parecchio tempo. Quando sono andato a trovarlo gli ho detto «Meglio, così hai più tempo per pensare». Commento Nelle invenzioni che non sono mai tali ma scoperte accade che per un processo che nella magia rituale è chiamato di oggettivazione il pensatore si costruisca una forma pensiero che viene continuamente informata da notizia relativa alla soluzione del suo problema. Normalmente il pensatore usa notizie che hanno un valore nella sua memoria ma quando la forma pensiero ha fatto il pieno di notizie è massimamente energizzata ed è in grado di attrarre dalla mente universale informazioni simili nelle loro regole vibratorie a quelle della forma pensiero creata dal pensatore. Poi è l'unione di queste informazioni che provoca il bagliore della scoperta. Grazie a tutti. 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 Grazie.